Polizia locale Buonasera, chiamavo perché sto registrando un servizio abbiamo trovato appunto durante questa registrazione questo sacchetto dell'IKEA buttato in uno spiazzo dove ci sono poi altra roba, ci sono sedi, estintori e altre cose con dentro questo... Ok, perfetto a bordo marciapiede, comunque a bordo strada questa collinetta Eh no, sì, 5-10 metri dentro questa collinetta Questa è una cosa che noi ci siamo persi i nostri figli, i nostri nipoti non riusciranno a fare questa cosa qui che facevamo noi Ecco, quindi questo messaggio lo mando io perché sappiamo che sono molto veloci a fare le querele Ecco, questa è una delle motivazioni per cui vi dico che quando si segnalano certe cose, non è che le si segnalano perché uno vorrebbe vivere sotto la guglia del Duomo ma magari la situazione anche di periferia che aveva prima era migliore rispetto a quella che avete creato voi Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti